Allora eccoci qua dal Franco Celeri di Chiaveri dove finalmente la Riese centri sui primi tre punti nel girone di ritorno 1-0 contro la San Piedra Renese Ottore Matteo Cappelli ormai il nostro abitué e il nostro gladiatore Luca Sanguinetti Cominciamo dal bomber, Matteo allora quanto sei di gol in campionato? Quanto pesa questo gol rispetto a tutti gli altri 11? Un gol importante perché venivamo dalla serie di partiti in cui lo vincevamo Quindi è una vittoria che ti dà morale e si giunge per il futuro Carlo te invece oggi il solito gladiatore hai corso una cosa indescrivibile Come l'hai vista da metà campo la partita? Bene bene siamo stati bravi abbiamo chiuso bene gli spazi Nella volta è una delle poche partite dove abbiamo chiuso a reti violate Quindi sono stati bravi ragazzi ci siamo mossi bene Sono veramente contento per la prestazione La prossima partita andiamo al campo storico del Bajardo Allo Strinati contro il San Bernardino Che partita dobbiamo fare secondo te? Andiamo a fare la stessa partita che abbiamo fatto oggi con l'unità E cercare di portare a casa per tutti Cappelli e te invece questo gol lo sappiamo di solito lo dedico alla famiglia Ma se proprio lo vuoi dedicare a un giocatore? Lo dedico al bomber Come mai? A mio compagno siamo al bomber Come mai? Boh mi sono trovato a scrivere con lui Bene te Calu vuoi salutare qualcuno invece? Io saluto tutti i miei amici della banda inglese Sempre i numeri uno Grazie ragazzi